Il primo tempo si chiude ancora con i barcellonesi in avanti, al 48esimo un tiro a giro di longo dal limite dell'aria sfiora l'incrocio dei pali. Nella ripresa, mister Raffaele lascia negli spogliatoi il centrocampista Piteresi per infortunio. A retro a longo sulla linea dei centrocampisti inserisce l'attaccante Filippo Grinò, che torna di fatto a calcare il manto erboso del Dalcontres Barone a due anni dal brutto infortunio patito al ginocchio nel novembre del 2014. La mossa risulta azzeccata perché il neo entrato in piega appena 5 minuti per mettere a segno il gol del vantaggio giallorosso. E il minuto 50, quando colza dalla bandierina, scodella il pallone in aria di rigore, dove Grinò svetta più alto di tutti e con un perfetto colpo di testa batte Sorrentino, facendo così Igia Virtus 1-Sarnese 0. È il gol che manda in delirio i tifosi barcellonesi. Gioia incontenibile anche per Grinò, che festeggia dunque nel migliore dei modi il rientro dopo una lunga assenza, firmando di testa la rete che spiane su e la strada verso la vittoria. Sulle ali dell'entusiasmo i ragazzi di Raffaele provano subito a chiudere conti. Al 57esimo Lescano di testa, da posizione vantaggiosa, non inquadra di poco lo specchio della porta. Porta che il bomber italo-argentino centra però 60 secondi dopo. Quando raccoglie un perfetto cross dalla corsia di destra di Isgro e con un colpo di testa in tuffo, supera l'estremo campano per il gol del 2-0 giallorosso. Per Facundo Lescano si tratta dell'undicesimo centro in campionato. In campo si vede solo Ligia Virtus, che, spinta dall'incitamento dei suoi tifosi, continua ad attaccare a pieno organico, tanto da sfiorare per altre due volte la rete del Tris. Al 70esimo ci prove Sgro col Mancino, ma Sorrentino si sponde presente, mentre un minuto più tardi è Crinò a sfiorare la doppietta personale con un tiro al volo che impegna ancora gli straordinari l'estremo campano. La Sarnese, mai pericolosa fino a quel momento, viene fuori nel finale. Al 75esimo, un tiro dal limite dell'aria di Guidelli impegna in ferrera la respinta in tuffo. Ospiti che all'87esimo trovano il gol del 2-1 con una punizione da posizione defilata di Calemme che si insacca all'incrocio dei pali. Con questo successo, il dodicesimo in campionato, settimo complessivo in casa, Ligia Virtus sale in classifica a quota 41 punti e mantiene saldamente il primato solitario. Per i barcellonesi adesso riflettori puntati al big match esterno di domenica prossima contro la Cavese. Sicuramente è stata una bella sensazione, non me l'aspettavo, però meglio così. Alla fine ho trovato l'1-0, abbiamo fatto il 2-0, rischiavo di fare il 3-0, il suo portiere è stato bravo. Però l'importante era vincere oggi, dopo la prima di campionato di ritorno è sempre difficile. Quindi speriamo bene ora alla prossima. Parlando con i miei amici, domani entri, segni, facevo magari, però è successo, è stata una sensazione bellissima. Ora però pensiamo a Cava, a fare bene a Cava e andiamo lì per vincere. Diciamo che da fuori si soffre, c'è tanta sofferenza, soprattutto quando la squadra ha bisogno di un appoggio dentro al campo. Però io giustamente non potevo, la vivevo nello spogliatoio soffrendo per l'ora. È brutto, è brutto, però ritornare così è bello, onesto. È una cosa bellissima, ritornare e fare colla alla prima partita non è da tutti i giorni, diciamo. Ma sì, in Serie D troverai sempre degli ottimi giocatori. Se tu hai visto la Sarnese e cercavi di giocare palla, un'ottima squadra, tutti cercano di giocare. Non è lo stesso campionato d'eccellenza, trovi sempre ottimi giocatori. Il giro di ritorno sarà un giro molto difficile, perché è tutt'altro campionato. Dobbiamo andare a Napoli, non è facile e quindi dobbiamo pensare partita dopo partita. Sì, abbiamo fatto una buona gara. Sono molto contento per la mia prestazione, ma l'importante è che siamo riusciti a ottenere i tre punti. Un ambiente fantastico, i ragazzi, i miei compagni di squadra sono tutti dei bravissimi ragazzi disponibili e la tifoseria non c'entra con questa categoria, ma è sicuramente superiore. Hai riuscito ad integrarti bene? Sì, sì, assolutamente, già dai primi giorni. Il Milazzo fatica più del previsto, ma ottiene il successo contro il Via Grande al Marco Salmeri. Finisce 2-1 per la squadra di Rufini. Si comincia con il Via Grande che prova a spingere sull'acceleratore il calcio d'angolo e la uscita di Ingrassia a rassicurare i suoi. Dall'altra parte il corner di Dan, il pallone rimbalza in aria piccola, poi la difesa etnea in qualche modo si salva. Ancora Dan su calcio di punizione che crea pericoli, ma la palla finisce a lato. Il pallone è lì, ancora con l'iniziativa da parte di Ancione, l'intervento del portiere Caruso. Poi la splendida parata che rivediamo di Ingrassia su questo tiro di Dama, davvero provvidenziale l'intervento dell'ex estremo difensore del Due Torri. Il Milazzo allo scadere del primo tempo trova il gol con il pallone di Ancione, sottoporta Cannavò per il tap-in vincente. 1-0 al 45esimo. Dunque all'ultimo giro di lancette rivediamo Dan, poi la scivolata di Ancione, la palla resta lì e allora Cannavò non può sbagliare, sottoporta. Si va negli spogliatoi con l'1-0, poi al ripresa c'è subito il calcio di rigore per l'atterramento di Leo in area e allora il direttore di gara indica il dischetto. Cannavò è specialista ma è superlativo Caruso che respinge il tiro del numero 7. Qualche minuto dopo al quarto è incontenibile Rizzo nella sua discesa e il tiro imparabile anche per Caruso e il gol del 2-0 che merita di essere rivisto la sterzata dopo la lunga sgroppata sulla sinistra e il destro a fil di palo. Davvero un gol di rara bellezza, quello di Rizzo. Il Milazzo galvanizzato ci prova ancora con Dan ed è ancora splendido l'intervento in tuffo di Caruso. Poi però c'è la dormita della retroguardia e lo zampino vincente, quello di Tornatore. Al tredicesimo minuto il Via Grande riapre la partita. Sono minuti di sofferenza per il Milazzo che deve stringere i denti. Qui ci prova ancora Dama. Il suo tiro però non crea difficoltà alla retroguardia di casa e allora finisce 2-1 con il Milazzo che ottiene i tre punti. Era un vero e proprio spareggio salvezza quello del nuovo comunale tra Rocca di Caprione e Pistunina vince la squadra di Palmeri per 2-1 di fronte ad un pubblico infreddolito vista la giornata gelida nella zona tirrenico-nebroidea. In campo il Rocca è determinato per raggiungere il successo e comincia subito forte con l'iniziativa di Scafidi che mette il pallone in mezzo. il controllo di Spinella che poi si gira e calcia alto sulla porta difesa da Fazio ancora Scolaro, le sue finte, poi il pallone dentro con la sfera che termina di poco sopra la traversa e un Rocca che spinge in maniera forsennata il traversone sul secondo palo per la sponda di Matera, poi il riflesso superlativo di Fazio sul colpo di testa a distanza ravvicinata al minuto numero 38 guardate cosa combina Scolaro che con il suo sinistro aiutato anche da una deviazione sblocca il risultato, Rocca in vantaggio. Dura poco però la gioia dei padroni di casa perché poi ci pensa Minissale con questa perla su calcio di punizione a rimettere le cose a posto per il Pistunina uno a uno il punteggio e si va negli spogliatoi nel secondo tempo il Rocca si getta in avanti a testa bassa e trova questo gol di Calabrese a fil di porta ci sono le proteste del Pistunina perché l'assistente dell'arbitro aveva sventolato il fuorigioco il direttore di gara Polizzi di Palermo dice no, si tratta di gol regolare e allora il Rocca può festeggiare per il 2 a uno il Pistunina ci prova in qualche modo senza però trovare mai lo specchio della porta al tripice fischio proseguono le proteste dei giocatori messinesi con l'assistente che non vuol sentire ragioni e dunque si va negli spogliatoi con il Rocca di Caprileone che conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti